Ciao a tutti, oggi parliamo di programmazione e parliamo di un argomento molto caro a tutti noi docenti dell'Accademia che è quello dell'alteranza dei carichi. Partiamo velocissimamente da una ricerca del 74 di Ermaco che ci dà delle informazioni molto interessanti cioè queste sono le settimane, queste sono le intensità. All'andare avanti delle settimane, bruschi cambiamenti dell'intensità hanno portato gli atleti che hanno fatto questo test incrementi del 61% superiore rispetto a quelli che usavano una metodologia lineare di crescita più classica alla Matev o Ozolin. Dunque sappiamo che l'alternanza di carico è un argomento molto caro a noi dell'Accademia però dobbiamo anche capire che nel momento in cui l'andamento della mia programmazione tanto più è lineare tanto più io avrò bisogno di un'intera settimana di scarico mentre se io ho un'alternanza delle intensità di seduta in seduta sarà sufficiente di tanto in tanto avere un calo del volume o anche possiamo considerare l'NBL che è il numero di alzate settimanali svolte dall'atleta attestabile tra un 20% e un 30% di riduzione perché diciamo diminuzioni inferiori a questo target qua sono poco percepite poi dal soggetto, poco consistenti e non creano quell'effetto drenante rispetto alla fatica e l'accumulo di lavoro. Quindi per chiudere appoggiandoci anche a questo studio fatto in Russia abbiamo conferme anche anche tecniche che questa alternanza sia un'esigenza importante perché per un atleta confrontarsi con degli sbalzi così violenti di intensità lo mette in condizione di dover per forza consolidare le sue abilità motorie magari possiamo anche dire che sbalzi un po' meno violenti sono più adatti invece a chi deve ancora costruire il suo movimento assolutamente e ancora di più per chiudere ricordiamo che avete due modi per alternare carichi di seduto in seduta cioè banalmente una seduta pesante seguo una seduta leggera il classico stressante, stimolante, rigenerante oppure in un contesto un po' più probabilmente di inizi con crescite lineari a quel punto lì avere una settimana intera di scarico dopo 3, dopo 2 o all'interno del mesociclo aiuta a rigenerare le forze più forziamo l'adattamento più abbiamo bisogno di una settimana intera di scarico più giochiamo su carichi alternati meno questo diventa un'urgenza grazie